Ciao a tutti! Questo video sarà molto molto veloce, voglio dirvi una piccola novità, so, è appunto una piccola novità perché non è niente di che, però è una cosa che in questo momento mi rende felice, non chiedetemi né come, né dove, né quando, né perché, ma mi rende felice, non lo so nemmeno io. Ho ripreso ad utilizzare il mio blog, io sì, ogni tanto mi ricordo di avere un blog, ho un blog anche io, e ho ripreso ad utilizzarlo. Diciamo che quel blog l'avevo creato per il mondo unghie, però, appunto, forse questa cosa non mi faceva impazzire, perché ogni volta io lo riprendevo, lo riabbandonavo, lo riprendevo, lo riabbandonavo, adesso mi è venuta voglia domenica, domenica sono uscita, sono andata ad un ristorante un po' sperduto, ma veramente stupendo, in mezzo al verde, mi ha dato proprio l'ispirazione di riaprire il blog e parlare a 360 gradi e anche oltre, qui entriamo nella trigonometria proprio, di tutto quello che mi circonda, ecco, delle cose che possono interessarmi, l'ho riattivato due giorni fa, calcolate che nel primo post ho parlato di questo ristorante, oggi ho parlato delle macchinette per il caffè, magari ho pensato la mia piccola esperienza, magari può essere utile a qualcuno che vuole scegliere una macchinetta al caffè, insomma, a 360 gradi, proprio qualsiasi cosa che può tirare la mia attenzione, qualsiasi cosa che può entusiasmarmi, qualsiasi argomento, anche beauty magari, però insomma, veramente, qualsiasi cosa ho intenzione di parlarne in questo blog, quindi spero di riuscire ad essere sempre costante, perché comunque ci vuole tanto tempo anche per il blog, per scrivere ci vuole tanto tempo, qualsiasi cosa che ci si metta a fare sul web porta via tantissimo tempo, però in questo momento è una cosa che mi dà una bella carica positiva e quindi spero veramente di riuscire a portarlo avanti, spero che questa cosa possa piacere anche a voi, il primo post ha avuto un sacco di visualizzazioni, quindi sono veramente felice, vi lascio il link nel box informazioni, non sono un post sponsorizzati nel niente, e una cosa importante ovviamente, mi raccomando, di lato a un certo punto trovate il riquadro lettori fissi e sotto c'è un tastino con scritto segui, cliccate lì in modo da non perdere i miei post, anche se comunque poi li condivido anche nei miei social, però ormai ci sono talmente tanti social che diventa un po' dispersivo internet, un bel po' dispersivo. Comunque niente, con questo è tutto, volevo soltanto dirvi di questa cosa del blog, ovviamente se vi fa piacere, se vi piace leggere, anche se i miei post sono più foto che testo, sono molto nel mio stile, perché io preferisco così, cioè sono una persona molto fisica, per questo motivo che io faccio youtube, ho scelto youtube al blog come attività principale, proprio perché io preferisco l'impatto visivo, e quindi c'è il testo, ma ci sono principalmente foto nei miei post. Comunque, con questo è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate, vi aspetto in tantissime nel blog, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video, ciao!